Bene, l'ultimo brano della serata è l'una incontrata e noi ci cantiamo Angela, come buona assa della serata, passiamo i checchi noi. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te. Se mi chiedi chi è il ragazzo per te, Angela, io dico me. Se mi chiedo non me, io ti do due belle nocchie, in cambio di Angela, io dico no, no. Ma cosa vuoi da me? C'è anche il caffè, dove mi sveglio la mattina, penso ad Angela. Faccio la pipì, faccio la pupù, ma in parale a me sto costante e ad Angela. Ma cosa vuoi da me? C'è anche il caffè, è una cosa bella così mensalmente Angela. C'è anche il caffè, la mia famiglia, io dico te, ma non ti do due belle nocchie, ma non ti doverà. Ma non ti doverà, però mi va a andare, ma non ti doverà. Non ti doverà, ma non ti doverà. Ho vabbiamo poco, ma non ti doverà e non ti doverà. Mi doverà, ma non ti doverà. Io ti doverò, ma non ti doverà. Io ti doverò. Per curare le malattie che ti compieranno, perché le malattie arrivano, ragazzi non dobbiamo lasciare il giorno, ma saremo in dura a curare le due malattie, e quando anche faranno l'ora di averla vinta su di te, tu non dovrai mettere le malattie, vai il mio bello! Per curare le malattie, io come mi sveglio la mattina, penso ad Angela, a bisogno di me, a vivere con me, io ti porto solo ad Angela. Ed ecco il festeggiato Stefano, vai! Stefano, il festeggiato, 26 anni! Dove sei andato? Dove sei andato oggi? Ti amo Angela! Dove sei andato? Ciò, no, non porti tu il passeggino! Non porti tu il passeggino? Ciò, no! C-A-T-A Buonanotte a tutti!